Sono Maria Giovanna Dorzi e sono la figlia del proprietario di Casa L'Oste. Casa L'Oste nasce nel 92 quando i miei genitori comprano questa azienda abbandonata e Casa L'Oste è la mia infanzia, ma allo stesso tempo è anche la scelta di vita perché sono andata via per quasi 10 anni e un paio di anni fa ho deciso di rientrare portando avanti tutto quello che è la passione e la dedizione che i miei genitori hanno messo in questo progetto. Le potenzialità rappresentano principalmente quello che si può fare con la storia del territorio. Io sono una persona particolarmente nostalgica nel senso buono, nel senso che i ricordi, il sapere da dove si viene è assolutamente necessario e fondamentale per poter costruire il futuro. Quindi essere presente in un territorio che ha questa storia, questi 100 anni che vengono festeggiati quest'anno rappresenta una base da cui partire, da cui poter continuare a raccontare una storia che si rinnova ogni volta. Io sono una nuova generazione che entra in un territorio che appunto festeggia 100 anni quest'anno.